Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. E proprio mantenendo viva l'attenzione su tali casi, attraverso gli appelli dei familiari, degli amici, dei conoscenti della persona scomparsa, che è possibile riuscire a risolvere il caso. Grazie alla stretta collaborazione tra la produzione e le forze dell'ordine, oltre che del pubblico di fedelissimi del programma, l'epilogo, in molti casi è davvero stupendo, proprio come in quello di cui vi parleremo che ha rigato di lacrime di gioia i volti dei telespettatori. Finalmente, dopo tanta attesa, è arrivata la notizia del ritrovamento. Ha tenuto col fiato sospeso la scomparsa del diciassettenne Daniele De Rosa, residente a San Giorgio a Cremano, scomparso da Napoli, lunedì 13 novembre, fino a quando è stata data la notizia che tutti noi abbiamo sperato, quella del suo ritrovamento, che ha riempito di gioia i cuori dei telespettatori. Dalla ricostruzione effettuata a mezzo stampa, si evince che Daniele aveva partecipato a una sfilata, ma da quel momento in poi, di lui non si è più saputo nulla. Affinché Daniele venisse ritrovato, sono stati lanciati appelli anche via social per diffondere appelli affinché chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Daniele si metta in contatto con loro o con le forze dell'ordine. Fortunatamente la scomparsa del giovane si è risolta nel migliore dei modi, in quanto è stato ritrovato. Don Michele Madonna, parroco di Montesanto, che è molto in contatto con le realtà giovanili, gli ha prestato aiuto, mettendosi in contatto con le autorità di pubblica sicurezza e con la famiglia del ragazzo.